Non hai finito, perché c'è un bis di Tarantella, fino a quando non ci sfumano vai in onda la sigla, abbiamo qualche minuto, ti facciamo ancora Italianissima, ce la riproponi con grande successo, grazie a Giuseppe Spinelli per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Italianissima. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.